Tratti di spiaggia libera trasformati in accampamenti di fortuna e deposito merce. Scatta l'ennesimo blitz, un'operazione congiunta finalizzata a contrastare il fenomeno del commercio ambulante abusivo che ha portato ad un nuovo ingente sequestro di merce. Nella zona tra Scallo di Furno e Torre Chianca, a Porto Cesareo, i carabinieri della locale stazione, insieme ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo di Vibo Valencia, con il personale della tenenza della Guardia di Finanza, dell'Ufficio Marittimo e della Polizia Locale, hanno individuato e recuperato quattro strutture. Il successivo rastrellamento tra la vegetazione delle dune ha portato al recupero di cinque tende da campeggio, alcune delle quali con materassi in spugna in stato di apparente abbandono che riducevano gli spazi disponibili nel tratto di spiaggia libera. Bere e proprie aree utilizzate da venditori abusivi per esporre la merce che alla vista degli uomini in divisa si sono dileguati. Recuperati e posti sotto sequestro circa 2.000 articoli da mare tra gonfiabili, ombrelloni, giochi ed altro destinati al commercio abusivo per un valore commerciale pari a 10.000 euro. Il servizio ha permesso di liberare aree ed emaniali occupate abusivamente e segnalare agli organi competenti lo stato di degrado in cui verte quel tratto di demanio marittimo che diventa teatro di vita quotidiana per i venditori ambulanti che utilizzano i punti coperti dalla vegetazione anche come servizi igienici. Grazie. 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 Grazie.